Guardate che potete aumentare. Come possiamo aumentarli? Attraverso quel meccanismo di web marketing, di strategie digitali che ho fatto vedere prima. Quindi collaborando con l'organizzatore assieme ad altri enti, alla DMO, ma anche assieme all'università, si può fare in modo di enfatizzare questa presenza di stranieri, che è importante ma secondo me aumentabile. Come hanno fatto a sapere, questa è la ricerca del 2018, in gran parte sul passaparola, oggi non abbiamo tempo di presentare anche quella, dalla ricerca che abbiamo fatto invece nel 2021 sulla Gran Fondo Squali di Cattolica, il 60% veniva da Facebook e da social media, per cui lo spostamento dell'analisi della domanda, della proposta marketing della domanda, tutto fatto verso strategie digitali. La maggior parte di coloro che partecipano sono dipendenti, ma ci sono anche artigiani, molti libri professionisti e altre categorie, medici, però vedete come questa è la distribuzione, lavoratore autonomo, imprenditore, commerciante, la distribuzione dei partecipanti. Dove hanno pernottato? Soprattutto a Cesenatico, per cui chiaramente l'associazione degli albergatori di Cesenatico, vedendo il dato certo, matematico, dice ma allora noi investiamo se la maggior parte della gente ha dormito qui? Quante notti ha dormito? Una media di 2,78, hanno dormito mediamente 3 notti per una gara che si svolge un giorno. L'obiettivo è stato quello di andare ad allungare e adesso nella ricerca che stiamo facendo adesso, stiamo raccogliendo i dati proprio in questi giorni, e vorremmo dimostrare che attraverso una serie di iniziative si può aumentare anche il numero delle notti. Hanno dormito nella quasi totalità in albergo, il 44% a mezza pensione e il 44% a pensione completa. E uno dice ma come mai a pensione completa? A pensione completa perché la maggior parte di queste persone è venuta con la famiglia, 24%, 43% con amici, 10% in coppia, 14% entri sportivi. Da solo un esiguo 7,28%. Ripeto, una volta che tu lo dici, come sentito dire una cosa, se lo certifici con un questionario certo, universitario o di altro ente scientifico, ti dà un aiuto e un supporto nella ricerca di fondi importantissimo. Qui la suddivisione con amici o con famiglia è divisa tra escursionisti e turisti, chiaramente i turisti vengono soprattutto con amici e famiglia, mentre chiaramente l'escursionista, lo vediamo qui, tende a venire da solo. Questo è un risultato diciamo più atteso, mentre gli altri che abbiamo evidenziato prima sono veramente molto interessanti. Questa è una bellissima domanda. Quanti che sono venuti a Cesenatico per la Nove Colli pensano di ritornare? L'89,76% dice sì. Un 1,85% dice no. E un 8,39% dice non so. Ma il 90% che dice sì, vuole dire che l'evento Nove Colli, che già di suo comporta circa 21 milioni di Euro, in realtà diventa il driver marketing per attrarre nuovi turisti in un secondo momento. Vado veloce perché il tempo è vero che è molto stretto. È questo suddiviso tra turisti, escursionisti e residenti, ma la risposta è tendenzialmente omogenea. E qui cominciamo a vedere la stima dell'impatto economico, suddivisa tra gli escursionisti, i residenti e la maggior parte che sono turisti. Perché è venuto fuori che il 90% vengono a Cesenatico per fare i turisti. E questo è stato il boom della ricerca. Il dato è che il contributo medio, partendo dalla ricaduta diretta, è di 8,73 milioni come un contributo diretto per tipologia di utente, soprattutto da parte dei turisti. Viene poi applicato la percentuale di un dotto, per cui il risultato finale è stata una ricaduta economica di 21,27 milioni, con una gran parte che viene chiaramente da coloro che si sono fermati come turisti, una parte che viene dagli escursionisti e una parte dai residenti. Questo è stato quello che ci ha permesso di uscire poi sulla Gazzetta dello Sport, il Sole 24 Ore, con questa ricerca. E da lì è partita un pochettino tutta l'avventura, chiamiamolo così, del prodotto Sport District in Romagna, del prodotto Ciclo Turismo in Romagna e di tutto quel progetto del quale abbiamo parlato in questi due giorni. Questo poi visto anche tramite Google Trends, ma l'avevamo già visto anche ieri, la visibilità della ricerca Nove Colli e la visibilità della ricerca Hotel a Cesenatico. Questa è la provenienza di turisti stranieri, dalla Germania nel 423, dalla Svita nel 267, quindi questa è una presenza addirittura anche dal Brasile, dal Canada e dagli Stati Uniti. Questo è il motivo per il quale Nove Colli, anche cercandolo sopra il Google Trends, dà la possibilità di essere visibile anche a livello internazionale. In queste ultime slide, ma non so, magari non so neanche se è il caso di presentare, ho fatto un'ipotesi di distretto di turismo sportivo, anche a livello nazionale, che non fa altro che andare a riprendere questa tipologia di modello fatto a livello locale, ma abbiamo già accennato anche in varie fasi la presentazione di questi due giorni, andando a traslare a livello nazionale attraverso la creazione di una pluralità di distretti di turismo sportivo come questi, organizzati in questo modo, con questa misurazione di metriche, anche di ricadute economiche, ad andare poi a inserire in un panorama di tipo nazionale. Grazie per la disposizione delle domande, ma soprattutto grazie a voi per l'invito, grazie Danila. Grazie Lorenzo, grazie infinite per il tuo intervento, poi non so se riesci a rimanere o ricollegarsi fino alla fine, perché volevo poi alla fine dell'intervento del nostro consigliere Alessandro Damiani, che già vedo collegato, abbiamo detto tanto e ho cercato per non fare le conclusioni finali come era il programma, perché avrei magari rischiato di dimenticare qualcosa, ho preferito fare così un piccolo riassunto, piccole conclusioni a fine di ogni intervento, oppure a metà intervento come abbiamo fatto oggi. Però mi sono riservato a quattro punti, adesso mettiamo anche Alessandro, da memorizzare e di compiti che mi sono dati, che poi riverterò su Manuela naturalmente, per iniziative che secondo me possono essere utili per lo sviluppo del turismo sportivo. Intanto Lorenzo, grazie, poi noi ci sentiamo per questo incontro a Roma con il Ministro e con il Presidente Cozzo, e grazie per tutto e credo che abbia dato un ulteriore contributo, quindi abbiamo aperto un'altra finestra. Ora diamo last but in the list, ultima finestra e introduco Alessandro Damiani, che se posso dire, come ho detto per altri amici e colleghi, è innanzitutto un amico, un collega, un consigliere del Comune di Aprica, rieletto recentemente, quindi ancora congratulazioni, e anche restante stabile dell'info-point turismo di Aprica. Il consigliere Damiani appunto ci parlerà dell'esperienza di Aprica, cioè che può essere interessante per molti di voi, come una destinazione volta al turismo invernale, perché Aprica è un po' per cambiamento climatico, un po' per evitare, come diceva Michele Bertolini, oggi c'è una sostenibilità sociale, quindi cercare di lavorare tutto l'anno, per dare sia ai residenti la possibilità di continuare a vivere in questi luoghi di montagna, e sia per evitare il lavoro stagionale, che non è carino per chi lo pratica, e per dare la possibilità a chi magari fa questo tipo di lavoro, poi di essere istanziale e quindi di ripopolare alcuni centri, alcuni borghi, che invece per vari motivi così si spopolano. Quindi lascio a te la parola, Alessandro, e grazie, benvenuto. Grazie mille Daniela, grazie mille, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, come giustamente anticipato un po' da Daniela, il mio intervento vorge un po' a farvi capire quello che la nostra amministrazione negli ultimi cinque anni ha portato avanti in ottica di turismo, e in ottica di turismo legato allo sport, o dello sport legato al turismo. Questo mi piace un po' dirlo così, perché effettivamente sono due facce della stessa medaglia che dobbiamo cercare sempre, in ogni modo, di tenere unite, legate, perché una valorizza l'altra e viceversa. Partirei subito a condividervi la mia presentazione. Allora, provo a metterla a schermo intero. Vediamo se riusciamo, se no. Perfetto, dovreste vederla. Prima di tutto, mi piacerebbe darvi due cenni di Aprica per farvi capire la nostra realtà. Aprica è un paese situato tra la Valtellina e la Valle Camonica, siamo a 1.200 metri d'altezza, siamo circa 1.600 abitanti, quindi è una località turistica, possiamo dirlo, di montagna piccola, perché comunque sia, come potete immaginare, abbiamo un territorio montano molto vasto, ma dal punto di vista delle infrastrutture, della densità e della popolazione, è molto piccola. Come vi dicevo, siamo a cavallo tra la Valtellina e la Valle Camonica. Questo è ovviamente il nostro punto di forza, che ci permette di parlare a due valli molto importanti dal punto di vista turistico. diamo molto spazio all'aspetto sportivo, come in molte altre località di montagna. Ci piace parlare di sport, ci piace parlare di sport e turismo, come dicevamo prima. Queste che vedete sono delle pagine di un nuovo brochure, che è uscita da poco, nella nostra località, dove andiamo a parlare di tutti gli sport che possiamo fare all'interno della nostra località per presentarci un po'. Mi piacerebbe presentare la nostra località in questo senso. località di montagna, legata fortemente al territorio. Siamo legati fortemente al territorio, anche dal punto di vista degli sport che si possono praticare. Primo fra tutti è quello della bicicletta. Molto vicino a noi abbiamo, per chi non conosce Aprica, per chi magari non l'ha sentita nell'ultimo giro d'Italia, che si è ruoto poco tempo fa, abbiamo avvicino il Mortirolo, abbiamo avvicino un altro passo molto importante come il Gavia, un passo che sta prendendo piede, che è quello del Santa Cristina. Quindi ci troviamo in una posizione ideale per chi vuole praticare la bicicletta da strada. Posizione ideale per la partenza e l'arrivo di competizioni a tappe, vi farò vedere alcuni esempi dopo. Luogo ideale non soltanto per le biciclette da strada, ma anche per il mondo delle mountain bike, con circa 200 chilometri di percorsi dedicati alle mountain bike e al mondo che ovviamente sta andando avanti e che è già ormai nostro presente, che è quello delle bike, come conoscete tutti quanti. Non soltanto bicicletta, abbiamo anche una finta rete di percorsi dedicate a passeggiate, a trekking, quindi a hiking, che ci permette di spostarci all'interno di quattro province, proprio perché il nostro territorio si trova un po' in una posizione al culmine di queste province, quindi la Valtellina, quindi la provincia di Sondro, la Valle Camonica, la provincia di Brescia, abbiamo la parte un po' più verso il Trentino e abbiamo anche la parte dedicata verso la provincia di Bergamo. Anche qui sentieri molto importanti come il sentiero 4 Luglio, dove si scogge ogni anno la Sky Marathon, che è una delle più importanti gare di corsa in montagna. Aprica, come dicevamo prima, è soprattutto un paese votato al mondo neve, al mondo invernale, quindi parliamo del discorso legato allo sci, abbiamo circa 50 chilometri di piste, fattore molto importante per noi è la conformazione del nostro territorio, Aprica ha una vallata disposta a est-ovest, quindi ci permette di avere delle condizioni ideali di neve sia all'inizio della stagione, dove appunto le temperature rigide e il poco sole ci permettono di mantenere la neve in maniera ottimale, sia nel periodo un po' più avanzato di febbraio a marzo, dove appunto abbiamo la possibilità, visto che il sole è un po' più alto, di avere il sole tutto il giorno e quindi di poterci godere del nostro comprensorio in maniera differente rispetto alla prima parte della stagione. Un'altra nostra peculiarità che ci deriva un po' dal passato, da quello che è stato costruito negli anni, è l'area dei campetti, che è uno dei campi scuola a ridosso del paese, più importanti della Lombardia, che permettono appunto il principiante di arrivare dallo spazzaneve fino alla sciata avanzata, rimanendo direttamente in paese. Questa è un'altra delle nostre peculiarità, perché appunto tutte le piste della quota, in quota, arrivano direttamente in paese e quindi ci permettono di vivere in maniera comoda questo tipo di sport all'interno della nostra località. Mondo montagna inverno, non solo legato ovviamente allo sci, più tradizionale, ma anche legato allo sci di fondo. Abbiamo nelle vicinanze di Aprica due riserve naturali molto belle, quelle di Trevigno e quella di Pian di Gembro, nelle quali risiedono due piste da fondo con più anelli di diversa difficoltà, che permettono di avere appunto di praticare lo sci di fondo in un panorama decisamente incantevole. Sci di fondo che va a parlare con un'altra pratica che sta prendendo piede con molta soddisfazione che è quella dello sci alpinismo. Da poco è diventato uno sport olimpico che rappresenta un altro modo di vivere la montagna in una maniera eccezionale. Abbiamo anche qui, lo vedremo dopo, sviluppato diversi progetti che riguardano questa pratica che ci hanno permesso di avere grosse soddisfazioni anche nel periodo un po' più sfortunato del Covid, dove effettivamente la pratica dello sci puro non poteva essere portata avanti e quindi molti hanno ripregato sullo sci alpinismo, ma ve ne parlerò dopo. Infine, ma non per ultimo, come si dice, lo sport e la montagna vissuta attraverso le ciaspole è un altro di quelle discipline che stanno prendendo molta importanza, che stanno trovando molti appassionati, che permettono di vivere in maniera molto più sostenibile la montagna e di riuscire a rivivere un po' quel ambiente slow, quel contatto con la natura che risulta essere molto rigenerante per tutti i nostri turisti. Un'altra novità di cui vi voglio parlare per inquadrare un po' la nostra località è quella della pista illuminata più lunga d'Europa. L'abbiamo aperta e inaugurata l'anno scorso, anche se effettivamente i lavori erano finiti l'anno prima, ma come dicevo, con le situazioni legate al Covid non l'abbiamo sfruttata al massimo delle sue potenzialità, dopo vi spiego il perché dico così. Pista che parte dai 2000 metri, permette di arrivare direttamente in paese, su questa immagine vedete bene come il nostro paese è a ridosso delle piste, permette appunto questa interconnessione facile tra chi è in paese e chi è sulle piste. 6,8 km di pista, illuminata tutta interrealmente, permette una sciata molto semplice perché è tutta una blu e quindi è adatta a tutte le tipologie di sciatori. All'interno di questo progetto, come potete vedere dalla foto, abbiamo anche ricevuto delle solicitazioni da alcuni nostri sci club e ci siamo fatti un po' prendere la mano, prima era in programma solo l'illuminazione della pista blu, quella che vedete a forma di S per intenderci, poi abbiamo aggiunto un pezzettino centrale che permette la pratica agonistica agli sci club per gli allenamenti, ma poi ve ne parlo un po' più nello specifico più avanti. Una volta inquadrato quello che è stata, quello che è Aprica, per darvi un'idea di come è strutturato il nostro paese, delle possibilità turistiche legate allo sport che si trovano nel nostro paese, vorrei mostrarvi alcuni dati turistici. Prima di farlo però vorrei precisare alcune cose sui dati. La prima è che quando parlo di Aprica, soprattutto in riferimento ai dati, non parlo solo della località turistica col nome Aprica, ma anche di quella di Cortenogoggi, che in poche parole è lo stesso paese di Aprica, l'unica differenza è che essendo sul passo noi abbiamo un confine amministrativo che trasforma un unico paese in due paesi distinti e addirittura su due province distinte, quella di Sondra e quella di Brescia, come dicevamo. Quindi i dati che qui vedete comprendono anche quelli di Cortenogoggi, in un rapporto, come potete vedere in alto a destra e in alto a sinistra, su patto 100, il numero di arrivi e il numero di presenze, circa il 70% afferisce proprio al territorio di Aprica, mentre il 30% afferisce al territorio di Cortenogoggi. Un'altra precisazione che tengo a fare è che la serie storica in questo momento che vediamo parte già dal 2017, quindi da quando è entrata la nostra amministrazione, e arriva fino al 2022 in alcuni casi, chiaramente dal 2020 al 2022 dobbiamo fare delle ovvie precisazioni legate un po' al discorso del Covid, al mancato apertura degli impianti invernali nel 2021 e al fatto che comunque sia nel 2022 abbiamo ricevuto un sostanziale rientro delle presenze turistiche e abbiamo già superato, per intenderci, i dati del 2021 ovviamente. L'ultima precisazione è che quando parliamo di questi dati la componente italiana straniera è circa 6 a 4, quindi per 6 italiani è fatto 100 il numero delle presenze, il 60% sono italiani e il 40% sono stranieri. Passando quindi ai dati possiamo vedere come gli arrivi totale dal 2017 al 2019 sono aumentati leggermente per poi ovviamente diminuire nel 2020 con la seconda parte dell'anno quando è di fatto non più turistica, quantomeno non più turistica come l'intendevamo prima. Nel 2021 abbiamo avuto solo i flussi legati un po' al periodo estivo, nel 2022 si rivede quello che dicevo prima appunto l'alzamento dei numeri che ci sta riportando, che sta quasi superando i livelli del 2021. Stesso andamento per il discorso delle presenze, anche qui abbiamo nel 2017 al 2019 un aumento delle presenze nel territorio per poi avere ovviamente nel periodo del 2021-2022 una diminuzione drastica dovuto appunto al fatto che comunque il Covid ha chiuso i flussi turistici. La distribuzione degli arrivi, come vi dicevo, è più o meno centrata su un 60-40% tra italiani e stranieri. L'unico dato che è fuori da questo range è ovviamente quello del 2021 dove ovviamente il mercato straniero è praticamente riuscito ad entrare in Italia e quindi abbiamo questo dato che si avvicina intorno al 9-1 rispetto al dato di prima. 2022 troviamo un altro dato interessante che è quello di una quasi comparazione tra italiani e stranieri questo dovuto al fatto che ovviamente i dati che abbiamo in nostro possesso sono solo quelli per il periodo invernale nel quale ovviamente la nostra località ha un appeal maggiore rispetto agli stranieri del nord Europa e dell'est Europa. Se andiamo a vedere la curva degli arrivi totali per mesi notiamo come in molte località come la nostra turistica di montagna una forte forti vertici nei periodi invernali quindi gennaio, febbraio, marzo e un accentuamento delle presenze nel periodo di luglio e agosto. Stessa cosa la possiamo vedere per le presenze che vanno in correlazione con gli arrivi qui da notare secondo me è il fatto che la curva del 2020 come dicevamo prima è molto diversa rispetto alle altre proprio dovuta al fatto che abbiamo avuto un periodo legato al Covid. Detto ciò bisogna partire da quello che la nostra amministrazione trovando questo tipo di dati ha iniziato a pensare. Chiaramente quello che dobbiamo fare è quello di andare a migliorare la performance nelle code delle stagionalità per cercare di creare di incrementare ovviamente flussi turistici avere maggiore possibilità di lavoro per le nostre attività rendere più sostenibile la stagione e quindi cercare ad aumentare quelli che sono i flussi in questo periodo qui. Come fare per questo? Ci siamo posti quindi l'obiettivo di incrementare le presenze sotto questo obiettivo ci siamo dati molti strumenti quello che andiamo a vedere oggi è quello legato al mondo dello sport. L'obiettivo quindi è quello di incrementare le presenze attraverso lo sport ci siamo dati di fondo tre strumenti tattici che è quello dell'individuare i nostri punti di forza portare avanti le ricerche di mercato per capire dove poter intervenire e sviluppare dei progetti specifici per cercare di aumentare le presenze turistiche legate allo sport. Tutti questi obiettivi tattici di cui abbiamo parlato adesso rientrano in un master plan che abbiamo redatto negli ultimi cinque anni della nostra esperienza amministrativa che si chiama Green Aprica è un master plan che porta una visione delle località di Aprica e Cortola fino al 2030 che non a caso mostra molto verde perché in questa foto perché è la copertiva del master plan in quanto tendiamo a vedere la nostra località nel 2030 come una località di sviluppo sostenibile quindi una località che torna un po' alle sue origini di località montana che riprende tutto il mondo green e lo riporta all'interno di una località come la nostra che per chi la conosce negli ultimi vent'anni ha avuto un po' di problemi legati alla sovracostruzione di appartamenti alla sovracostruzione di seconde case e che quindi si è cementificata troppo il nostro obiettivo è quello di riportare al 2030 un equilibrio nel quale appunto tutti gli attori e tutte le infrastrutture siano sostenibili e permettono quindi di migliorare la performance turistica della nostra località nel master plan ovviamente non abbiamo parlato solo di sport abbiamo parlato anche di riqualificazione di alcune aree quindi faccio vedere per esempio una zona già riqualificata una passeggiata in centro nella quale troviamo una zona ciclabile una zona pedonale un'area verde ma che nella nostra visione diventa qualcosa di diverso con la possibilità di fruire totalmente a piedi di questa area la possibilità di diventare essa stessa un polmone verde all'interno del paese la possibilità di essere un interscambio per la sentieristica e per il discorso legato al bike park o al discorso legato al nostro comprensorio sciistico come potete vedere lì la penicillina che idealmente è quella che porta lì agli impianti di risalita e che quindi diventa una visione totalmente diversa rispetto a quello che dicevo prima la visione che in questo momento è il nostro paese un paese ipercientificato allo stesso modo altre aree vengono riviste in chiave sostenibile in chiave di scelta di non fare muovere le auto all'interno del paese ma di lasciarle all'esterno all'interno di hub specifici dove la nostra turistica può parcheggiare un po' muoversi liberamente all'interno della nostra località che è circa un'estensione di circa tre chilometri e mezzo quindi muoversi solo a piedi oppure con le biciclette rimanendo lasciando praticamente la nostra località car free e quindi non avendo più inquinamento acustico per le auto problemi legati alla sosta al parcheggio e a quant'altro che in determinati periodi ovviamente risultano problemi comunque sia importanti nel masterplan ovviamente abbiamo parlato anche del discorso legato agli impianti sportivi questa vedete a sinistra è la situazione oggi di un hub dell'ambito della magnolta che è un impianto di arrocamento verso il comprensorio sciistico nel quale ovviamente adesso troviamo una situazione passatemi il termine molto anni 80 dove grossi parcheggi queste strutture molto grandi ma poco inserite all'interno del contesto ambientale la nostra visione è quella di trasformare un po' tutto come dicevamo prima non avere più il discorso legato alle macchine ma avere un discorso legato a un miglioramento della viabilità pubblica all'interno del nostro paese che permetta quindi di vivere la nostra località in maniera agevole a piedi in bicicletta e quindi con anche una visione nuova di inserimento delle strutture in un contesto urbano differente più legato al mondo prima all'interno del masterplan abbiamo identificato nello specifico per poter parlare poi di quello che è la necessità al momento dobbiamo ovviamente vedere da qui al 2030 ma dobbiamo iniziare a costruirlo fin da subito al 2030 abbiamo trovato delle azioni principali che permettono di sviluppare i progetti di cui dicevamo sopra quindi gli obiettivi tattici che ci siamo dati all'inizio le azioni sono che abbiamo cercato molto le azioni che siamo andati molto sopra e poi cerchiamo di avere il miglior risultato di un'epoca di un film anche perché non sono gli obiettivi come avete visto ma il masterplan è decisamente importante quindi per fare tranquillo dobbiamo stare fin da subito in un'epoca quindi azioni molto pratiche sono quelle della riportazione delle strutture resistenti la creazione di eventi che permettono l'utilizzo di queste infrastrutture e ovviamente un piano di comunicazione che serve in maniera trasversale per comunicare sia le qualificazioni sia gli eventi stessi ma anche dove comunicare gli operativi e gli operativi in un certo libro potete vedere alcune foto di quello che abbiamo già fatto per esempio un altro di acento o un po' più rete stanco di inaugurazione degli altri quali tetto o un po' più entusione quali tetto per ridare un po' di slancio una struttura probabilmente in un po' di 10 o 15 anni e un po' più attestato si avvicinare ci un po' tanto durante o la di 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 l'an un po' non l'an a l'an d'anim o l'an l'an d'anim an l'an 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 Grazie a tutti. Come dicevo, comunicazione, che è ovviamente comunicazione verso l'esterno, come vi ho fatto questi due esempi, ma è anche e soprattutto comunicazione verso l'interno. Noi ci siamo resi conto che un affetto importante della comunicazione la dobbiamo fare verso i nostri operatori, i operatori interni. Questo perché ci sono una serie di motivazioni molto semplici. La prima cosa serve per permettere alla comunità di essere partecipe in un progetto di sviluppo che l'amministrazione vede, perché deve per forza l'amministrazione cercare di spuntare a una visione di medio e lungo periodo, perché ovviamente i nostri operatori non hanno questo tipo di impostazione. Preferiscono ovviamente avere quello che riguarda il momento attuale. Quindi la comunicazione serve senza dubbio e l'abbiamo utilizzata tanto per rendere partecipe la nostra comunità e il nostro operatori, soprattutto per coinvolgerla, perché molte volte ci siamo resi conto che quello che l'amministrazione vedeva come un passaggio quasi obbligato, ma anche il contatto con la nostra comunità non lo vedeva come una cosa necessaria. e quindi abbiamo dovuto cercare di far capire loro questi motivi per cui noi prendevamo una decisione o un'altra. E attraverso questo passaggio creavamo interesse nei nostri progetti, quindi spingevamo sempre più persone, sempre più operatori a lavorare con noi verso l'obiettivo unico. Infine, la comunicazione interna ci è servita tanto anche per orientare le decisioni degli operatori. Quindi un esempio banale, prima che arrivassimo noi in Aprica c'era forse una struttura alberghiera che aveva una bike room, adesso dopo cinque anni di lavoro, forse sono tanti, sono d'accordo con voi, però piano piano siamo riusciti ad avere circa il 90% delle strutture alberghiere in questo momento che ha una bike room all'interno del proprio hotel o del proprio bed and breakfast. Quindi questo ci serve per prendere per mano i nostri operatori, per far capire quali sono le necessità del momento e per orientare le loro decisioni in questo senso. Comunicazione che serve anche all'interno per permetterci come amministrazione di mettere sullo stesso piano le nostre idee con quelle degli enti locali più vicini a noi, i consorzi turistici per esempio, per esempio le province, noi quando parliamo di province è proprio per la nostra peculiarità di essere su due province, in un territorio su due province, quella di Brescia e quella di Sondro. Quindi quando ragioniamo di progetti generalmente riusciamo a coinvolgere entrambe le province in modo da avere ovviamente più forza dal punto di vista amministrativo in questo senso, anche per i fondi e quant'altro, quindi siamo molto contenti di questo punto di vista. Quindi detto un po' come abbiamo lavorato anche dal punto di vista della comunicazione, che è l'aspetto un po' trasversale, andiamo a quello che dicevamo prima della riqualificazione delle infrastrutture. Il palazzetto dello sport, come vi dicevo, è stata un'opera importante per noi perché ha permesso di rimettere in gioco una struttura che era davvero dieci anni che non veniva più utilizzata se non per momenti sporadici e per attività che poco centravano con il turismo e con lo sport. Non abbiamo fatto niente di eccezionale, abbiamo solo preso una struttura, gli abbiamo fatto un lifting, gli abbiamo messo una nuova pavimentazione più consona alla pratica del basket e del volley rispetto a quella che c'era prima in PVC e con questa miglioria abbiamo veramente riattivato una struttura comunale che era completamente inutilizzata. Struttura comunale che purtroppo era preesistente, dico purtroppo perché è una storia un po' strana quella del nostro palazzetto, è costruita sopra la nostra piscina, quindi quando è stata costruita le dimensioni non potevano essere modificate e quindi abbiamo un campo che è regolamentare solo per il discorso del volley proprio perché le distanze tra muro e muro non permettono di rendere per esempio di avere un campo da basket regolamentare. Però al di là di questo la nuova pavimentazione ci ha permesso comunque sia di riutilizzarlo in ambito sportivo e soprattutto in ambito turistico, poi vi spiegherò come. è una struttura molto importante questa qui, nel 98 e nel 2000 abbiamo avuto come potete vedere dalle foto due eventi grossi di arrampicata sportiva indoor, abbiamo avuto un campionato italiano e abbiamo avuto anche gli internazionali, andati molto bene, però come vi dicevo da quegli anni lì la struttura è sempre andata in decadente, fino agli ultimi cinque anni dove siamo riusciti a farla ripartire. Riqualificazione delle strutture che riguarda anche aree dismesse all'interno del nostro paese. come potete vedere in alto a sinistra, questo era un campo in cemento dove veniva praticato un po' di tennis, un po' di basket, ma era comunque sia mal manutenuto e quindi l'utilizzo era praticamente uguale a zero, era un'area molto bella questa qui, molto centrale all'interno del nostro paese e quindi ho un peccato avere un'area così brutta a ridosso delle case nel nostro paese, in un'area centrale. Con poco, perché bisogna dire la verità, abbiamo messo mano all'area, abbiamo anche qui ripavimentato tutto, abbiamo fornito nuove infrastrutture sportive, abbiamo cercato di rimettere in gioco quest'area che è passata da essere un punto di degrado a un punto di attività e un punto di aggregazione dei ragazzi. Qui sotto vedete una foto di un camp dove hanno utilizzato questa struttura esterna, ma vi garantisco che al di là di eventi come i camp il campo viene utilizzato quotidianamente da turisti, ma è una cosa bella anche da molti aprechesi, da molti ragazzi aprechesi che prima non conoscevano neanche cosa fosse il basket e che si sono avvicinate anche qui a questo tipo di gioco, a questo sport attraverso la riqualificazione di quest'area qui. Le riqualificazioni delle infrastrutture che come nel caso precedente permette di portare migliorie e di gestire. Scusami, Alessandro Persona, c'è qui in presenza Paolo, che tra l'altro è uno studente masterizzando, cioè sta finendo il master in giurismo sportivo qui all'Università Fuoritalico, che vorrebbe farti una domanda. Prego, mi stai venendo qui. Magari anche dopo, quando concludi il discorso, posso sapere appunto se appunto un ragazzo come me vorrebbe chiedere la riqualificazione anche di un quartiere, qual è l'iter che bisogna fare, cioè a chi bisogna rivolgersi per un parco in un quartiere. Per un parco, per la riqualifica proprio. Grazie. Allora, quello che hai visto fino adesso è stata una volontà dell'amministrazione. Qui è stato abbastanza semplice perché l'amministrazione ha proprio visto questa zona di degrado e ha voluto fortemente la riqualificazione. È chiaro che probabilmente un passaggio al contrario che dovrebbe essere forse l'iter adeguato. Io dico sempre che l'amministrazione riesce a fare il suo, come si dice, il suo lavoro di amministrazione, ma i cittadini sono quelli che poi vivono le aree, sono poi le persone che devono tenere a cuore la propria città o il proprio quartiere. Quindi è correttissimo lo stimolo da parte del cittadino. Anche in senso di critica, lasciatemelo dire. Però secondo me l'iter adeguato dovrebbe essere appunto quello di coinvolgere il miglior modo possibile l'amministrazione. Non so che è un paese una realtà molto grande o molto piccola. E quindi probabilmente io stavo non ho messo la prima ma tu puoi confermare che io dicevo a lui che chiedere magari come un comitato di quartiere che è una realtà locale cioè che l'associazione sportiva eccetera andando in questa situazione a presentare magari come un comitato di quartiere ma ovviamente il campo dal basso è un paolo che è anche il allenatore di azione quindi magari io posso dedicare due ore a giorno di vita qualche settimana per allenare la corsa o posso fare o posso fare la corsa quindi magari come un progetto secondo te poter posso andare in questa posizione e cercare la ricerca di clienti e forse magari così è trattando gli interventi inocenti magari c'è anche qualche sponsor che possa non magari in giro non so il scherpino il viso non so qualcosa magari il barbino vedere qualcosa qualche spazio magari a meno dell'atletico dell'attrezzatura sportiva un decadino adesso di con anche con l'ascolto e poi appunto dicevo che c'è sport di salute che praticamente fa bene però mi diceva che sono rivolte più alle pubbliche amministrazioni e Tommaso che puoi dare una risposta perché lì c'è Rosalacco molto bello che è un mercato che è la zona di Roma che ha talenti ma è un mercato di Roma e quindi c'è un mercato perché c'è tutti le sport le parti che si è diventato e altri due risposti saluto e poi la prossima sarà la seconda la prossima sarà anche la seconda però lì quello che si è è grazie anche per la seconda un'unice sì quando prima è un'unice è un'unice possibile per essere un'unice di quindi lo può fare il municipio oppure come io pensavo magari sentire un'unice di scoprima del territorio che può essere interessato e che qualcuno può dilavorare tra questo perché è un'unice è un'unice di risposta di risposta di risposta di di risposta che appunto a livello climaticale si risposta a livello di risposta in risposta Kick risposta di risposta risposta di molto molto amici anche esseri molto risposta di risposta un'unice che è profниц Better ti anche perché anche una grossa spesa, cioè quello che ho visto io, è l'importante di non chiedere pratiche, cioè portare un progetto in cui è già tutto risolto, sia di soli che di soli, dell'ac methods a prima degli象ocytoli, per esempio non funziona, non le ci sceglie in mourning della luce, ma non bisogna fare weil diciti dei truci pregovieri e comuni con sicura, non le ci sono ne 타az ma Mobili di riqualificazione dell'infrastruttura, ma soprattutto per un'amministrazione, è importante la parte gestionale, è importante capire che il parco o il campo riqualificato dove vengono appunto spesi soldi pubblici non viene poi dopo, non si trasforma per 5 anni, 10 anni, di nuovo in una landa desolata, ma che appunto ci sia anche un progetto gestionale per la socialità nella cittadina, ma comunque si può coinvolgere il mondo, permette un utilizzo vario all'area dell'infrastruttura, questo secondo me è un aspetto principale, che permette proprio l'amministrazione di capire quanto quell'area lì può essere vario tutta, al di là dell'infrastruttura e quindi l'area, in questi aspetti, è un'unica difficoltà molto importante, quindi questo è il mio consiglio, anche questo secondo me è una cosa come un esempio pratico, visto che ci è capitato, cioè è stato inaugurato poco tempo fa, il casino Sky Bank, è stato anche il casino, ma che si tratta, è stato un'indicazione di capire, senza la Terra, in questo secondo me è stato un'indicazione di capire, che è molto molto Grazie. 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 Grazie a questo passaggio siamo riusciti a portare avanti un progetto realizzato con altre persone in termini territoriale dove dovete risolvere due problemi sostanziali per il nostro canale. Il primo è quello di creare sotto dell'area che vedete qui un 150 potenti coperti, questo è un problema enorme per il nostro canale che è lungo ma è un petto realizzato aspetto e se quindi paramento di avere un grosso polmure a quegli altri che parlavamo prima, e quindi parliamo di qualche polmure notte e ci troviamo meglio. Il secondo problema che abbiamo è quello che vediamo il punto a destra, il punto a sinistra, quindi nel punto a questo posto un po' in cura dove prima trovavamo una situazione in cui c'è un'alta rettile del progetto e è proprio una situazione di banca. Il punto a questo momento è un progetto che potremo avanti, per partire il prossimo anno, anche sopra il campo di generale di cui dicevo prima, dobbiamo costruire un campo a calcio cinque, un campo molto distorto, maschere, progettile, 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 progettile. Dopo averte tanti anni di interro, però non lo ti permettono a calcio anche il paese, ma dov'ho accorgato di nonostante sia il momento, anche per il cui destra, ripeto un momento, dappostitile, progettile, 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 progettile. avanti negli anni, con la modificazione della sentieristica, in alto sinistra di quello che sarà prima, quindi sentieri che applicano, è molto complicata, molto complessa, ovviamente ha molte più internazioni, ma allo stesso tempo è disorientata un po' dall'autorista di chi aveva potuto andare sui nostri sentieri. Abbiamo fatto una scelta, che è quella di semplificare la situazione dell'alto destra, rendere, riqualificare, in questo momento erano 27 sentieri, riqualificare la situazione, ovviamente, di tracciate, alla segnala, all'informazione che venivano date in un'idea, in un'idea diversa, alle attrezzature, come un sentiero, quindi, a una partina, però, poi, la volta, in un'idea, dedicata ai sezzi, e poi, qui, per poter vedere alcuni massaggi particolari, alcuni programmi, eccellenti, dove, comunque, sottomarsi in maniera liberale. Questo è stato un progetto, come dicevamo, di comprensorio sulle nostre due località, progettuali, che è promesso, appunto, di ridare un lancio al nostro patrimonio sentieristico. Questo è successo, si è passata anche lì, la situazione della segnaletica, che è una segnaletica convenzionale, che è comprensibile, perché tutti è voluto andare in montagna. Siamo passati da segnaletica, un po' semplice, un po' ma, nel quale il mondo, il più retto di dire, come stava andando, però, erano i sentieri, più legati all'orto di scostruzione dell'aereo, qui, che è presente, ogni sentiero ha un numero di riferimento, qui abbiamo deciso di dare bimbo a migliorare i sentieri, in modo da rendere più facile e più attraverso le, e ho deciso di inserire sull'inzio del sentiero, tutte le informazioni, che sono un po' differenti del transgine, che si incontra sulla facilità del percorso, sul percorso, sul percorso dedicato ai camminatori, o anche a quelle biciclette, sul percorso, sul percorso di metterle, il percorso, e poi ho creato anche delle segnaletiche intermedie, che permetteva andare a far sapere, se rimanevano il percorso quando mancava o quanto tempo si è rilasciato alle spalle. All'interno di questa riflessione dei sentieri e di questa nuova segnaletica, non si è rilasciato agli aspetti legati proprio a visitare ogni sentiero, inizio, nel nostro sito, nel nostro sito, nella quale trovate una descrizione del progetto rosso, con un'altra battaglia, trovate una traccia GPS, un po' anche, un po' che mi permette di spaventare quello che avete accaduto anche là su e il punto di vista è il punto di vista del progetto. Questo progetto è stato un progetto che è permesso di attivare con la situazione del progetto, quasi come se lo avessero portato, sono presi in periodo di uno o due o tre sentieri e diventano due sentieri dove sanno loro che dovrebbero trovare il progetto rosso pulito, diventa appunto una parte della loro attività quotidiana e quindi hanno poi anche a gara di tre sentieri più pulito, a chi si schema, la prima, il suo lavoro che può essere capito sul sentiero, che hanno permesso appunto di riprendere il territorio e quello di riprendere il risparmio mondano è un'altra cittadina, cosa che non mi abbastanza, ha lasciato un po' tutto, tanto qualcuno lo farà o tanto l'amministra, secondo me deve interessare a queste cose, quindi le associazioni sono tutte le campi di questo, questa manutenzione deve stare così, e così vorrei dire precisamente che non mi ha accettato quello che abbiamo fatto nel momento neppure la prima cosa. Dal masterplan di Carino abbiamo derogato anche un masterplan apposta, dedicato al mondo bike, anche qui come potete vedere in alto dietro a sinistra, la campina dedicata al mondo bike, molto complessa, che mi permetteva di avere una serie molto importante di informatori che, come che fosse, non era quello che un personato di bike necessitava, quindi la scelta è stata quella di portare avanti un masterplan, individuare i percorsi migliori, quelli subito furibili, andare a qualificare quelli che erano da ricordare o qualificare dell'immediato, andare a costruire con una mappa diversa, semplice, per riparare questo salocchio, quella di prima dei, prima metri alla natura, e intorno a questo processo di andare avanti a serie di step, quindi ogni anno noi prendiamo, intorno a questo masterplan un o due sentieri, intorno a ciò che abbiamo, e andiamo a sistemare l'interno di un masterplan di un masterplan, questo ci serve per rinforzare, con le risorse, con le rinforzate, come dicevamo prima, ma andare a portare avanti, comunque sia un patrimonio che abbiamo di caldo e di sentire l'utilizzazione della campanella e fruibile in maniera funzionale dalle nostre turisti, quindi il percorso a step è quello che abbiamo fatto per rinforzare il progetto di medioevo per rinforzare e di non abbandonare, per rinforzare di non avere la nostra possibilità. Tutto il masterplan, per dare un'idea, per sistemare tutti i percorsi che hanno stati migliorati, contava più di un milione e mezzo di euro, se ci fossero formati in questo capitolo, invece, non saremmo rinforzati e non saremmo rinforzati a rinforzare niente. In questo momento stiamo migliorati, ci sono solo 109 euro per lì.